Il provino che hai fatto con il film? Ma il provino ne ho fatti due o tre e quindi il provino erano proprio queste scene in cui li devo contraddire, che devo dire guarda Nanni tu stai facendo un film non è un film politico ma chi se ne frega della politica mi ricordo proprio questa scena qui all'inizio la prima volta ero un po' tesa ma lui mi ha stoppato subito e mi ha detto sei un po' tesa e quindi però lui basta che dice una parola e io ho detto ah sì, mi sono sciolta subito e quindi è andato tutto molto liscio i primi provini li ho fatti con altri partner con altri attori Silvio è subentrato dopo ed è stato un incontro molto bello con Silvio anche se devo dire che il mio primo giorno sul set era proprio la scena del bacio cioè il mio primissimo giorno che arrivo sul set ovviamente è normale c'è già l'eccitazione, la tensione arriviamo io e Silvio e dobbiamo baciarci con la lingua perché questa era proprio una sua indicazione io voglio un bacio vero vi dovete baciare per davvero e con la lingua voglio vedere la lingua Silvio sei stato contentissimo io ho detto vabbè la famosa battuta di Mastroianni dice tutto il giorno a baciare un'attrice bellissima e ti pagano pure io sai cresciuta nel socialismo in cui se uno ti dice devi fare così io lo faccio così quindi parte il primo chat io metto questa lingua dentro Silvio devo dire che un attimo stop Silvio si vede che sei un po' teso cioè Silvio è rimasto un attimo scioccato credo però c'era stata un'indicazione precisa quindi davvero professione sì sì esatto oppure è una scusa per far ripetere scena da parte di Orlando non si deve scusare si è abituato a un certo punto il decimo chat ormai è diventato un anche perché Nanni è famoso per fare tanti chat non so a quanti è arrivato con voi questo film credo che molti meno rispetto ad altri film precedenti Valvora forse proprio ha chiesto questa scena come diceva Berti Silvio mi ha reso molto felice Silvio Orlando vorrei vedere il film che non sarebbe stato forse era anche un modo per stabilire fra i due personaggi una complicità tu dici che l'ha fatto apposta no lo sto chiedendo lo sto chiedendo sì può darsi effettivamente sì si è creata poi Silvio è veramente un partner ideale perché si mette proprio al servizio ti ascolta ti guardati però sì si è creato un buon rapporto anche un po' di non soltanto di complicità ma anche un po' di competizione sana competizione perché poi Nanni ha un'altra cosa che spesso fa sto brava Barbara e Silvio fa a me non me l'ha detto adesso vedrai che il prossimo giorno te lo dirà a te questo mi ha detto meglio a me il prossimo viene meglio a te quindi era gelosissimo Silvio quando Nanni diceva brava Barbara però poi diceva anche bravo Silvio io gli dicevo vedi a me questa volta non me l'ha detto quindi dai facevamo la gara a chi era più bravo perché poi Nanni questo è una cosa molto bella perché noi attori siamo un po' come dei bambini anche ai bambini spesso no io avendo due figlie cioè li stiamo sempre a rimproverare devi fare studia eccetera che ogni tanto noto che sto sempre a dirgli devi studiare un po' di più forse sempre a romperle le scatole ma raramente li diciamo bravo cioè raramente questa cosa che dire ogni tanto di dargli anche una soddisfazione che hai fatto una cosa bene importante sia per i bambini sia per gli attori per cui questo trattamento degli attori come se fossero dei bambini io credo che funzioni molto perché poi noi siamo dei bambini perché recitare è praticamente giocare no? in tutte le lingue recitare è tradotto come gioé play è solo in italiano l'ungherese come si dice lo tengo come esercizio anche in russo lo stesso come è? sono curioso i grazi i grazi adesso devo stendere un dialogo in russo adesso proseguiamo in russo adesso non so perché mi abbiamo preso in questo momento e poi ricominciamo ma che film è questo qui? ci sono altre lingue è una serie una serie che è esclusione di tempo primisca sì 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 e poi parlare sì è una storia che si chiama di investigazione io faccio una giornalista investigativa che deve parlare un sacco di lingue perché non si capisce da dov'è ma si capisce che è dell'estero c'ha i dialoghi in russo in inglese e poi prevalentemente in inglese sì quindi beh una bella sfida una cosa nuova per me sicuramente sì tra l'altro il russo è affine alla tua lingua l'ungherese no l'ungherese è una lingua di un gruppo linguistico completamente diverso totalmente chiaramente non sai dove appoggiarti se vai così sì sì l'ungherese è una lingua